Si chiama Peggy Jones, è una giovane donna straniera, la quale pensate che si è trovata con un evento incredibile. Infatti costai stava facendo il prato col marito nella casa di campagna. Quando un serpente è caduto al cielo, le è andato al braccio attorcigliandolo, dopodiché un falco le è arrivato addosso e ha lottato col serpente. Tutto quanto si è verificato nel suo braccio. La donna è rimasta ascioccata da quello che si è verificato. Dapprima infatti il serpente che si è avvolto, letteralmente ballando al suo braccio. Poi l'uccello, il grosso uccello che lotta contro il volante di infusione, il grosso volante di lotta contro il serpente, ma lotta forti, perria, totale e incisiva. E' tutto che si verifica nel suo braccio. Sembra quasi che il suo braccio sia diventato, di fatto, effettivamente ballando, un secco e un'era. Vi ringrazio per l'ascolto. La donna ha cercato di dire aiuto, ma il marito era dell'altra parte. Al fine, diciamo che il falco ha lottato contro il serpente e sembra che abbia avuto la vita di un serpente. Vi ringrazio per l'ascolto. Ci troveremo in Texas, negli Stati Uniti. Iscrivetevi e commentate. Ciao da Narro di Italia. Ciao.